Siamo sul serio, il nutrizionista. Eh, mi ha assicurato che in due settimane posso perdere 5 kg. Ho detto sì. Eh, ho preso già il primo appuntamento. Tra una settimana mi controlla. Inizio, inizio. Eh, scusa, devo chiudere. Ti chiamo dopo che è arrivato il collega. Ciao, ciao, ciao. Collega, sei mai stato a dieta? Provincia di? No, no. No, mi sembra che ci sono passato con la famiglia.